Buonasera a tutti voi, è un piacere darvi il ben ritrovato anche questa sera, grazie per averci scelto come sempre. Noi vi portiamo fino all'orario dedicato all'informazione, abbiamo una puntata variegata, dunque più tardi, anzi, fin rouge di tutto. Noi parliamo di bellezza questa sera, di un evento bellissimo e di bellezza in sé e di chi ne ha fatto una professione. Dunque vi anticipo che più tardi ritroveremo nel nostro studio Francesco Basso, dunque voi sapete che parleremo strettamente di quella che è la bellezza femminile. E poi invece iniziamo con quello che è un evento bellissimo che puntuale è arrivato anche quest'anno nella città di Como. Vi do già un indizio, ve lo svelo fra pochissimo, perché come sempre, prima vi ricordo, la nostra informazione di servizio è sempre attiva. La nostra mail angolichiaccio, l'espansionetv.it, sempre lei non cambia di sera in sera, magari voi vi stufate a sentirlo sempre, però guardate che se volete recuperare qualcosa è sempre bene ricordarvi che questo è il canale giusto per farlo. E allora vi dico subito che iniziamo parlando della ventesima edizione della città dei Balocchi, l'ho detto, è l'appuntamento puntuale di questo periodo per la nostra città comasca. E a parlarcene niente di meno che il presidente del consorzio Como Turistica, Roberto Cassani, buonasera. Buonasera. Ben arrivato. Grazie. Ed è questa sera non solo, perché in realtà all'interno del lungo periodo di Como Città dei Balocchi ci sarà un evento pazzesco, lo vedete già. E sono felice soprattutto, sai perché Davide? Sono felice che hai associato la parola pazzesco alla mia inquadratura. Però non faccio io la regina, evidentemente il regista. Grazie, sono commossa. Sei commossa, no? Io sai perché sono commossa? Perché tu non più tardi di venerdì scorso hai detto, prometto che cercherò di tornare e sei tornato subito. Incredibile, siamo uomini di parola. Grande, grande Davide Vandesprose. Voi direte, ma come mai siamo insieme? Beh, perché, insomma, quest'anno il Consorzio Como Turistica ha coinvolto anche un big e dopo parleremo di un concerto che arriverà a brevissimo. Vi va se prima introduciamo invece la ventesima edizione? Certo, direi, cosa possiamo dire? Beh, facciamo finta intanto che qualcuno non sappia assolutamente che cos'è Como Città dei Balocchi. Impossibile, ma... Mi sembra una cosa difficile, comunque. Eh, però, mai sfidare il destino. È l'evento di Natale che quest'anno è la sua ventesima edizione. Ci siamo arrivati, ci siamo arrivati dallo scorso weekend con grande, devo dire, con grande fatica, con grande impegno, soprattutto degli sponsor, dello staff del Consorzio. Quello che è stato visto in questi primi giorni, e io lo chiamerei un po' un preview della Città dei Balocchi, nel senso che abbiamo cominciato a vedere quelle che saranno le iniziative, il progetto Luce, che oramai da quattro anni tutti conoscono, apprezzano e fa il giro del mondo sulla rete, che andrà implementato in questi giorni. È tornata la pista dei ghiacci in Piazza Cavour con il ghiaccio vero. Sì. I mercatini che sono cresciuti anche come numero di espositori rispetto agli anni scorsi. E poi partiranno piano piano tutti gli eventi che tradizionalmente fanno parte della Città dei Balocchi. Quindi la mostra dei presepi, le iniziative con le forze dell'ordine. Sì. Che tutti ricordiamo, la presenza poi al broletto di vari eventi per i bambini e non solo i bambini, l'arrivo di Babbo Natale, l'arrivo della Befana e l'ultimo il Capodanno naturalmente. È verissimo. Beh, direi che in estrema sintesi comunque abbiamo già detto di fatto tutti quelli che sono gli ingredienti fondamentali che fanno di, come Città dei Balocchi, l'evento natalizio dell'anno. Anche perché, questo ricordo subito a chi ci sta guardando, sono immagini relative alla scorsa edizione, ma che ben ci fanno entrare nell'atmosfera, di quella che giustamente lei metteva come premessa alla grande preparazione. Perché è un lavoro corale. Come Città dei Balocchi vede veramente l'impegno, ovviamente di Consorzio Comoturistica, ma di tantissimi attori che poi travestono, vestono la nostra città di luce, di mercatini, di attrazioni, di eventi. Quindi, inaugurazione 30 novembre, finirà con l'arrivo della Befana? L'arrivo della Befana, come tutti gli anni, esatto. Quindi sono 37 giorni di manifestazione, non so quanti eventi di Natale possono vantare questa durata. È vero. Quindi direi, ripeto, sottolineavo e voglio risottolineare anche io l'impegno, un impegno di progettazione e programmazione che parte mesi prima e poi un impegno, solo voglio far notare che l'installazione delle luci richiede da parte dello Stato del Consorzio un impegno notturno, che molto spesso arriva fino alla mattina. E lo vediamo proprio qui, queste sono le immagini. Di fatto voi vestite di luce quelli che sono alcuni dei simboli più belli della nostra città. Quindi c'è il Duomo, il Duomo di Como, il Duomo, il Broletto, il Tratto Sociale, San Giacomo, la Piazza Grimoldi e comunque, insomma, il centro della città diventa un centro di luce. Ci piacerebbe, a me personalmente, che questo progetto si espandesse, si estendesse, forse negli anni ci riuscirà. Perché poi questo Magic Light Festival, questo progetto luce, ci dà visibilità in tutto il mondo, anche, qua va bene, ho un po' una deformazione professionale, ai fini turistici, come Valenza turistica. E beh, non è proprio una cosa da dimenticare questo, eh, comunque. Ma Davide Vandesfros ama il progetto luce, perché giustamente il Presidente ci diceva, quattro anni fa è stata la prima edizione, adesso è diventata un po' addirittura una cosa attesa. Quattro anni fa, quando le persone hanno visto per la prima volta illuminarsi i nostri monumenti, eh beh, sono rimasti tutti lì così. Tu Davide? Ma è una cosa che praticamente fa, a mio parere, la differenza. Perché noi possiamo ricordarci i nostri nonni come ci raccontavano dei Natali ai loro tempi, no? Una candela e poi magari qualcuno legava un nastro, un palloncino su un albero e due luci in più creavano già atmosfera natalizia. Oggi come oggi è sufficiente attraversare una tangenziale per capire che qualsiasi luce tu metti, appendi, viene fagocitata dalla luce che già normalmente tu hai nelle insegne, i semafori, le vetrine comunque sempre accese. E qui non stiamo nemmeno a parlare adesso di eventuali sprechi o cose del genere. Parliamo solo dal punto di vista visivo. Certo. Le luminarie tradizionali natalizie non hanno più quella forza, perché tutto il resto della città è già luce 365 giorni all'anno ed è un'insegna continua, sempre più forte, sempre più grossa. La differenza l'hanno fatta queste luci, che anche qualche timidamente, anche nei miei paesi, oppure mi è capitato di vederne di molto belle a Cremona, per esempio, in altri luoghi, laddove la città viene proprio avvolta da luci alternative con proiezioni e in questo modo hai una sensazione, stiamo parlando di bello, stiamo parlando di visivo, tu hai la città che si trasforma con questa unione, con questo corpo unico di tutti, tanti che ci lavorano, e quindi hai città dei balocchi da una parte che da vent'anni e passa, comunque occupa una piazza intera, con tutto quello che poi transida al suo interno. E poi hai questo effetto buio e luce alternativa. In questo modo sicuramente hai un effetto valido che ha il suo perché, perché vedere i monumenti che tu vedi tutti i giorni vestiti di luce, e alla fine si parla poi di una proiezione, quindi non è neanche una cosa invasiva in nessun modo. E lo vediamo il risultato, le immagini che parlano per conto loro. E' potente, è potente e mi è capitato nella piazza di Lenno vicino a casa mia una volta in cui c'era questa proiezione, camminavo dentro queste luci a notte tarda e mi sembrava di essere veramente in un fondale teatrale. Una cosa analoga venne fatta durante un mio concerto sul Duomo di Monza, anche lì non era Natale perché stiamo parlando di un periodo che poteva essere settembre o roba del genere, però l'effetto suggestivo, l'effetto comunque anche vagamente cinematografico e allo stesso tempo teatrale crea dal punto di vista, io lo dico proprio, da bambino e anche da persona che frequenta comunque la cosiddetta arte, è forte, è forte perché comunque ci dà un senso. E' in questo periodo dove è vero che gli sprechi sarebbero veramente da abolire in tutto e per tutto, che bisognerebbe andare al dunque, è anche un peccato stare a perdersi in luminari e inutili in un periodo in cui... Però abbiamo bisogno ancora di qualche simbolo e di un momento in cui anche psicologicamente, nel cuore di tutti ci sia il ricordo che siamo questa cosa qui, viviamo in questa terra, abbiamo sempre festeggiato questo Natale e grazie alla tecnologia, grazie comunque all'avanguardia anche delle possibilità tecniche, semplicemente con della luce tu hai questa lanterna magica che ti dà la possibilità di avere per qualche settimana la sensazione anche psicologica di stare un po' meglio. Io veramente penso che, cioè sottoscrivo qualsiasi tipo di parola che ha detto Davide e penso anche che abbiamo bisogno comunque di magia, la magia del Natale, ne abbiano bisogno i bambini che sono un po' i protagonisti, lo vediamo anche dalle immagini, comunque di come Città dei Balocchi, giustamente Roberto Cassani ci diceva, è un evento con tantissimi eventi all'interno, ecco il motivo per cui noi vi abbiamo segnalato il sito www.cittadeibalocchi.it prendetene nota perché lì è fatto benissimo e c'è anche un calendario su ogni giornata se puoi andare a vedere quelle che sono le offerte per i più grandi, per i più piccoli, ci sono le forze dell'ordine, la possibilità per i bambini, abbiamo visto insomma di guardare anche da vicino il lavoro quotidiano di chi lavora per noi, per tutti noi e poi c'è la magia, ci sono i presepi, le mostre, c'è tutto quello che fa del Natale comasco veramente un momento meraviglioso. Sì, diceva per i bambini, ma non solo per i bambini, dobbiamo tornare un po' tutti i bambini, io ascoltavo Davide e assolutamente sono osservazioni molto interessanti, effettivamente la luce è un modo poco invasivo e forse anche economico oggi di vestire una città e di dare quell'atmosfera che fa tornare un po' tutti i bambini, forse è questo che diremmo. La luce è un simbolo potente, anche religiosamente uno accende una candela, allora uno può dirmi la candela non serve a niente, eppure continuiamo a accendere candele. Perché? Perché siamo fatti di atti, siamo fatti di simboli e di simbologie. Molti di noi, lo possiamo tranquillamente dire, hanno perso il Natale, perché ci siamo sporcati di tante altre cose, abbiamo avuto dubbi, abbiamo avuto progressi che in realtà ci hanno fatto un po' regredire. Però tutti abbiamo avuto più o meno, quasi tutti abbiamo avuto il Natale. E quelli che arrivano adesso, quelli che sono i nostri figli, quelli che sono i bambini, noi non possiamo privarli dell'idea di Natale, finché anche loro non capiranno se lotteranno per far sì che rimanga il Natale o se saranno quelli costretti a perderlo, perché magari vivranno in un mondo troppo vertiginoso, troppo strano, troppo veloce. Speriamo di no, posso dirlo. Il mio augurio natalizio è quello di avere sempre una luce accesa, anche piccola, anche povera, che ci sia innanzitutto un Natale interiore che poi illumini tutto il resto, che a volte è semplicemente la pacca sulla spalla, un sorriso, un gesto. Certo. Però, visto che di simboli viviamo, che ci siano di simboli forti per far vedere che Como non vuole perdere il Natale e in tutti questi anni ha sempre comunque lottato per essere a difesa anche della luce natalizia intesa come simbolo. Io mi perdo nelle parole di Davide e purtroppo poi vedo che va avanti il tempo, no? E quindi invece dobbiamo ricordare anche che il 13 di dicembre Davide Van des Froos farà il suo concerto all'interno del Teatro Sociale di Como. Presidente, quindi? Sì, quindi noi innanzitutto grati a Davide per la sua disponibilità. Questa è la ventesima edizione, questo quindi è quasi un regalo che il Consorzio Amici di Como vogliono fare alla città. Tra l'altro, oltre a questo, all'occasione di vedere questo bellissimo spettacolo, il spettacolo sarà un'occasione di fare ulteriore solidarietà perché è ricavato, il prezzo del biglietto sarà 15 euro, quindi accessibile a tutti e il ricavato andrà alla Croce Azzurra per l'acquisto di un nuovo mezzo. Quindi, anzi, io invito chi non l'avesse ancora fatto, i biglietti oramai sono quasi tutti esauriti quindi affrettatevi nei prossimi giorni. E oramai basta dire che Davide Van des Froos è già venduto tutto per conto suo, è affattissimo, io l'ho detto venerdì, però è vero. Tu hai avuto e hai il grande merito di aver portato Como ovunque ma Como ti riconosce un amore oramai sviscerato. Adesso te lo stanno dimostrando anche le altre regioni italiane, noi però ci siamo sempre, no? Io, dalla prima volta in cui ho messo piede proprio nel teatro sociale di Como quando erano ancora i tempi del primo disco effettivo, con grande emozione portare la gente del paese nel teatro della propria città. È una cosa forte, ricordo ancora una frase che mi ha fatto commuovere e che mi ha dato il via per lottare tanto sul mio territorio per far sì che tutta questa gente potesse essere anche presa in considerazione un po' di più perché mi ricordo una persona che mi aveva detto grazie, grazie a tutti, e gli ho detto cosa ho fatto? Ci hai portato a teatro. Che voleva dire? Ci hai fatto venire tutti dal lago fisicamente a teatro dove non spesso, non sempre andiamo. ma lui voleva intendere hai portato tutti noi dentro il tuo spettacolo a teatro. Anche questa volta con Terra e Acqua tu porti non soltanto alcune delle tue canzoni, saremo io il violinista Anga per cui saranno le canzoni cantate in modo molto semplice, molto anche natalizio se vogliamo ma è proprio l'interazione con racconti, esagerazioni, meditazioni e soprattutto la parte visiva cioè i video, parti dei video che faranno comunque parte delle otto puntate che stiamo in attesa di vedere trasmesse su qualche emittente comunque sia, ancora una volta il lago entra in teatro e io sono soltanto un cursore, capito? perché è proprio lì che poi avviene la differenza. E allora io vi ricordo di segnarvi la data, venerdì 13 dicembre alle ore 21 all'interno del Teatro Sociale di Como sono pochissimi biglietti rimasti, affrettatevi le prevendite al Teatro Sociale di Como appunto andate sul sito www.cittadeibalocchi.it perché lì è spiegato tutto non perdete la possibilità di sentire ancora una volta Davide Vandesfros all'interno del nostro teatro sociale stupendo che tanto amiamo, Davide ti faccio un in bocca al lupo enorme per quella data e tanti auguri di Natale, grazie per le tue memorie anche da bambino che sono state bellissime Grazie a voi tutti Grazie a Roberto Cassani, il presidente di Consorzio Ecomo Turistica in bocca al lupo per questa ventesima edizione che insomma si prospetta comunque un grande evento anche quest'anno Trepi il lupo E allora ringrazio loro e chiedo a voi tutti di aspettare pochissimi istanti, poca pubblicità e poi ritorniamo in studio Ci vanno solo persone come me E se io volessi diventare come te? Io non credo che tu lo voglia veramente In qualsiasi modo la vogliate mettere il dato di fatto è uno Non c'è via di scampo The Hunger Da lunedì a sabato alle 23 e domenica alle 23.30 su ETV Computer, tablet, smartphone Il Corriere di Como, sempre con te Scarica le applicazioni per iPad, iPhone e dispositivi Android Il giornale è disponibile dalle 3 del mattino Anche sul web Corriere di Como.it Avete fatto bene ad aspettarci, seconda parte di Angoli ve l'avevo promesso Avremmo parlato ancora una volta di bellezza e dunque lo sapete arriva lui L'esperto massimo della nostra città di Como Noi siamo affezionatissimi, è un piacere ritrovarlo nello studio Francesco Basso, buonasera Buonasera a te e a te le spettatori Stai bene? Benissimo, grazie Allora, art director? Sei meravigliosa, quando sono con te è bellissimo Oh che bello, che bello essere interrotti per i coppimenti La bellezza che va in tutte le case, hai visto? Che meraviglia Grazie, questo rosso un po' ci avviciniamo alle feste, sai? È giusto, no? È giusto, sì, un po' di colore Ci sta, ci vuole Ma guarda, faccio la presentazione istituzionale per quelli che ti vedono la prima volta Ormai sono pochissimi Lui è l'art director dell'atelier Francesco Basso Capelli Insomma, questa nuova esperienza che è arrivata nella città di Como Ormai siete ben avviati, ben ingrenati Un'ottima risposta di persone insomma al vostro atelier Ormai è un continuo via vai di persone che vengono a trovare No, devo dire che sono molto contento e molto felice Perché c'è un riscontro fantastico Vero Sia dalla clientela che risponde molto bene Sono molto felice Ah, e noi lo siamo con te Voglio ringraziare veramente i miei clienti È vero E se volete metterlo alla prova, anche se ancora non siete andati da lui E beh, un salto vale, perché dove sei, ricordiamo, comodissimo In via Plinio a 9 Centro a Como Eh sì In un palazzo meraviglioso, per cui vi aspetto E allora, io vi dico, gli ingredienti che trovate quali sono? Beh, quelli che vi raccontiamo ogni volta Un'equip favolosa, ovviamente coordinata dalla bravura di Francesco Che è da 40 anni dedito a questa carriera 39, dai facciamo Ah scusa 39, fra poco arriva però il... L'anno prossimo facciamo 40 39, ops 39 anni dedicata alla bellezza delle donne Il tuo è un piccolo regno per qualsiasi donna voglia venirti a trovare Dove si può veramente staccare la spina Prendersi qualche ora di relax Mi dedico, come si dice, cuore, anima a tutto Veramente a quello che è il mio lavoro Soprattutto a quello che è la bellezza delle donne Sì, beh, però ricordiamo che ci sono, vengono anche tanti signori da te Sì, tanti bei maschietti Ah infatti, perché noi lo diciamo sempre Tanti, tantissimi Perché l'uomo negli ultimi anni comunque riscopre quello che è la cura, la bellezza Beh, io trovo veramente molto interessante ed è giusto Curarsi Ovviamente ci dedichiamo sempre un po' di più alle donne quando ci sei tu Però volevo ricordarlo questa sera perché sono tanti signori che arrivano Tantissimi, veramente grazie anche loro Allora, ricordo anche Francesco che ovviamente il salto di qualità di questi ultimi tempi Che ha dato vita a Francesco Basso Capelli è l'unione con Framesi L'unione con Framesi che nel 2014 vedrà anche proprio comunque un ulteriore sviluppo Uno sviluppo che abbiamo presentato sia a Roma a settembre E poi adesso penso che ci abbiamo un po' di foto Un po' di foto che andiamo a vedere Abbiamo presentato, ecco, qui c'è stata la presentazione dell'Accademia E di un'anteprima di quelli che sono i lavori della collezione 2014 È vero Ecco, è stata presentata il 17 di novembre È stato, abbiamo visto, un bel riscontro La collezione si ispira alla mia Sicilia Quelli che sono i colori, l'ambra e poi il vento La mia Sicilia e la tua Sicilia, Francesco? Sì, certo, la mia Sicilia, che non dimentico Infatti è un omaggio che faccio alla mia terra Perché è un nuovo cammino È vero È dove ho iniziato io È vero È stato fatto per questo Francesco, da giovanissimo sei venuto poi su Sì, ho 14 anni quando ho preso il trenino Il treno e siamo venuti qui a Milano E comunque adesso, infatti, l'ho dedicato a questa prima collezione Francesco Basso Capelli A quella che è la terra, questa terra calda Ma con tutte le varie contraddizioni però Dove c'è il fiore, c'è il barocco E qui vediamo una presentazione Cosa hai fatto? Insomma, con le fotografie un po' lo vediamo Abbiamo presentato quello che è il table cut Che è questo taglio, doppio taglio Che poi, la caratteristica di questo taglio Rispecchia, ti puoi veramente gestire i capelli da soli sempre Questa è un po' una cifra che si ritrova spesso Sempre Sempre, infatti Per cui ti permette, con il taglio che ha carattere Di essere sempre in ordine Ti permette di andare in qualsiasi occasione Che è la cosa che vogliamo anche noi donne Avevo la comodità di alzarsi e avere un bel taglio Che ci chiede poca attenzione Ma niente, uno shampoo, un'asciugatura naturale O comunque con un foam molto leggero E tu hai veramente... sei in ordine Puoi andare anche a un aperitivo Perché no, anche a teatro E come no? E poi... Hai un bel impronta Hai personalità Personalità, carattere e questo Poi ho presentato quello che è il tie-dye Che è questa colorazione che è molto naturale Infatti qui rispecchiamo quello che è i colori dell'ambra Un po' dei dorati E poi quello che è... abbiamo presentato L'accademia, le giornate di accademia Che partiranno a gennaio Sei emozionato? Oramai si avvicina? Molto, è stato... Quella giornata ero molto emozionato Poi adesso le foto scorrono, sono tantissime Sono in bianco e nero Il che le rende, dal punto di vista estetico Sì, perché sono arrivati proprio oggi Due minuti prima Sì, è vero Due minuti prima di... Li vedo con te comunque Di iniziare la trasmissione Tu sei la prima a vedere Oh, grazie Io e un po' di gente a casa Certo Ok, però adesso, vabbè, insomma arriverà C'è anche la preparazione di una testa Con i fiori Che sono un'altra cosa che a te piace tantissimo utilizzare Sì, infatti Adesso poi riusciamo a vederla Che è un po' barocca Che poi può essere anche un po' la sposa Un'acconciatura un po' così Un po' esasperata Con dei fiori che è l'amaranto Che si usa pochissimo in testa Invece sono riuscito a... Poi vediamo se riusciamo a vederla Sì, sì, arrivano Con le ranuncole che sono dei fiori di campo Comunque molto... Quindi hai immaginato una sposa Ispirata alla tua Sicilia Alla mia Sicilia, sì Un po' barocca Per cui è molto... Veramente ricca 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 Ma che meraviglia Eccola qui Eccola qua Eccola, beh, vedi Però sono delle sculture Io vi assicuro Lo vedremo anche adesso in... Ricca perché sono arrivata Eccola qui La vediamo È molto... È... Visto? Molto particolare L'amaranto sono questi... Questi fiori che scendono È un bel rosso Che fa anche Natale Eh, beh, ma visto che si avvicina Natale Con le feste cosa facciamo Per stupire un po' magari in qualche serata Ma stiamo organizzando un aperitivo Sì Sotto la vigilia Facciamo festa Sì Che poi lo mettiamo su... Lo comunicheremo www.francescobassocapelli.it IT IT? Sì, sì Sì Quello è No, vabbè, voi io chiedo di prendere nota Tanto è scritto anche esattamente sul video Potete prendere nota Perché rimane il punto di riferimento Per andare a vedere la programmazione di Francesco Basso Ma anche vedere un po' gli orari Per venirti a trovare fuori dalle feste Così Ricordiamo che l'hai nominato tu stesso Eravate poco poco tempo fa a Roma A Roma è stata la presentazione Veramente Meravigliosa Emozionante Perché è emozionante Io sono stato presentato Per la prima volta nel mondo fra mesi E quelle che sono veramente a livello internazionale C'erano i paesi dove loro sono presenti Per cui c'è stato un bel riscontro ancora adesso E anche lì è stata un'esperienza bellissima Perché tu hai fatto vedere proprio A me piace molto l'idea Sia dalle foto che abbiamo visto sia poi Grazie anche a questo video L'idea è che Insomma tu sei sempre In mezzo a un palcoscenico Sotto gli occhi di tutti E tutti ti guardano Però tu riesci Come se fossi estraneato da tutto Sì sì Ma infatti Questa è una caratteristica Per non essere troppo emozionato Perché Comunque riesco veramente Ma questo mi succede anche al lavoro Proprio Sono lì con lei e basta Tutto il resto che mi circonda È qualcosa di così Un po' di Di rarefatto Che si Così nell'aria Quasi che non mi tocca È vero È vero È vero Perché veramente C'è questo Alchimia si può dire Giusto? E come no? Ecco Questa empatia con la cliente In questo caso con lei Per cui Sono con lei e basta Eh vabbè Ma queste sono immagini Che ci fanno un po' sognare Detto questo Tutte noi possiamo essere Quella ragazza lì Potenzialmente Possiamo venirti a provare Ma tutte le donne hanno Com'è? Poi il mio motto no? Eh io lo so Hanno il diritto E il dovere Di essere belle E questa è una cosa Che tutti noi Dobbiamo Metterci veramente Di impegno E cercarle di trasmetterla a tutte Perché Tutte abbiamo il diritto E il dovere Di stare bene Con lo spirito L'anima E quello di Gratificarci È vero Tu ne hai fatta una missione di vita Sì io faccio una missione di vita Veramente Perché Tutti noi abbiamo questo diritto E dovere di stare bene Proprio in questo momento Ancora di più È vero E visto che arrivano le feste del Natale Sentiamoci un po' speciali Magari Quando avremo le nostre cene Lo siamo sempre Però Siamo sempre Dimostriamolo anche in questo periodo No? Perché no Acconciamoci Acconciamoci Che bello Che cosa bella Francesco allora Lo ricordo ancora una volta www.francescobassocapelli.it Ovviamente tu Ritornerai nel nostro studio Perché tanto sei Una presenza Sempre gradita Io ti ringrazio Perché quando poi mi inviti Guarda Io sono felice Prima di vederti E poi Dare un saluto A loro E allora Io ti ringrazio solo per questa sera Poi ci ritroveremo E insomma Tutti invitati Come sempre L'atelier Alle porte aperte Io sono lì che vi aspetto Per farvi qualche coccola Grazie allora Francesco Basso Il nostro ultimo ospite della serata E allora abbiamo chiuso Insomma così Con tanto affetto Uno degli ospiti Che ci piacciono di più Ma io vi ricordo Che Angoli finisce solo per questa sera Perché domani Alle ore 19 Dove pensate che saremo? Ovviamente qui ad aspettarvi Ad intrattenervi Prepareremo Tanti nuovi argomenti Da trattare in vostra compagnia Vedremo nuovi ospiti Dunque Accendete il televisore Alle ore 7 di sera Come sempre Io vi ringrazio per l'attenzione E ricordo che potete Rivedere tutte le nostre puntate Su www.espansionetv.it Buona serata a tutti